12 ore di lavoro al giorno, con una paga di 3 euro all'ora, e costretti a sborsare pure 150 euro d'affitto per alloggiare in strutture fattiscenti, senza riscaldamento e servizi igienici adeguati. E' stato questo lo scenario di caporalato che i carabinieri del gruppo tutela del lavoro di Venezia, coadiuvati dai colleghi dei comandi di Peso Robino, Latina e Ravenna, hanno scoperto in una impresa di autolavaggio di via Einstein a Bellocchi di Fano. Un autolavaggio gestito da cittadini egiziani che sfruttavano altri connazionali. Dopo un anno di indagini, videoriprese e intercettazioni, nella notte appena trascorsa sono scattate le manette. Quattro le misure cautelari, una in carcere e tre ai domiciliari. Il nucleo carabinieri tutela del lavoro di Pesaro ha svolto questa indagine su un fenomeno di caporalato. In realtà siamo riusciti a condurre un'indagine che ci ha consentito di trarre in arresto quattro persone, quattro cittadini egiziani che sfruttavano dei connazionali all'interno di un autolavaggio come mano d'opera, sottopagandoli in realtà alla metà di quanto dovuto, ospitandoli in alloggi degradati ed ostili, facendo pagare loro per questi alloggi anche 150 euro al mese e impiegandoli per 12 ore al giorno a fronte di una paga ridotta e assolutamente inadeguata per la prestazione lavorativa che veniva fornita. L'operazione denominata Car Wash ed effettuata dai carabinieri in sinergia con l'ispettorato del lavoro ha portato a rilevare una florida attività dell'autolavaggio di Bellocchi che offriva pulizie complete dei veicoli a circa 10 euro contro i 25,30 stimati nelle imprese regolari. Prezzi accattivanti consentiti grazie allo sfruttamento dei 28 lavoratori egiziani e albanesi alternatesi alle dipendenze dell'autolavaggio di cui 18 figuravano in nero. Si sono così stimati 387 mila euro di stipendi non corrisposti e oltre 150 mila euro di contributi evasi. C'è stata tutta una parte amministrativa che ha consentito di verificare come questi proprietari di questo autolavaggio non avessero versato contributi per circa 150 mila euro. Contributi che dovevano essere appunto versati in favore dei cittadini egiziani che venivano sfruttati per il loro lavoro che avevano effettuato. Un'attività criminale da veri aguzzini che non prevedeva ferie, giorni di riposo, permessi di malattia, contributi previdenziali e con l'aggravante in tempo di pandemia di non fornire mascherine e dispositivi di protezione individuale. Senza contare che i datori di lavoro sfruttavano le condizioni di vulnerabilità dei connazionali egiziani che necessitavano di permesso di soggiorno. L'attività è stata un'attività molto importante che dà un riscontro di come l'arma dei carabinieri e in particolare la specialità della tutela del lavoro sempre supportata dall'arma territoriale possa condurre queste attività in contrasto di questo fenomeno del caporalato che come abbiamo dimostrato non è un fenomeno che si identifica come generalmente conosciuto con lo sfruttamento del lavoro in agricoltura ma anche in altri settori. Quindi è un approccio strutturale che viene fatto perché andiamo a tutelare diversi beni giuridici quelli dei diritti della persona, diritti dei lavoratori ma anche i diritti della libera concorrenza.